Sindaco Casarotto, oggi l'ultimo tassello alla riqualificazione di Villa Fabris, un grande risultato a chiusura del suo mandato? Sì, io devo dirla con molta onestà, un bellissimo risultato che però premia tutte le amministrazioni che dal 1997 al 2017, quindi ben 20 anni, hanno lavorato per realizzare sia la ristrutturazione prima della villa, poi la riqualificazione anche delle parti di quella che è la scuola di restauro internazionale, adesso abbiamo sistemato anche tutta la parte della chiesetta campestre, la parte della caffetteria, adesso stiamo facendo anche la nuova entrata da via Burizia che migliorerà anche l'accesso al parco, abbiamo sistemato il viale del parco e finalmente anche l'ultimo tassello proprio, il parcheggio, l'altra parte del parcheggio di Piazzale Apri, un bel parcheggio, ci sono 75 nuovi posti, tutti liberi, quindi non ci saranno problemi di disco orario, una bellissima anche pavimentazione drenante che credo renderà anche l'aspetto dal punto di vista ambientale piacevole, insomma ecco, sono contento che quantomeno Villa Fabris è un punto fermo sul quale abbiamo messo il timbro fine lavori.